Insieme all'associazione di ucraini che sono qui a Pescara vogliamo organizzare per domenica alle ore 17 una manifestazione di dire no alla guerra. No alla guerra in Ucraina, no alla guerra anche nelle altre situazioni dove purtroppo la guerra è ancora in essere. Questa è patrocinata appunto dall'associazione culturale dell'associazione culturale degli ucraini qui a Pescara, dal gruppo consigliare UDC perché è presente come vedete il segretario cittadino Vincenzo Serrario, occhio all'assessore d'inizio che oltre ad essere l'assessore dell'Aggiunta Masci è ovviamente rappresentante dell'UDC al comune di Pescara. Per cui saremo anche con i nostri delegati, con i sindaci, abbiamo invitato anche il sindaco, il presidente del consiglio perché ci sembrava giusto che il primo cittadino dovesse partecipare a questa iniziativa. Ci attendiamo veramente tantissima gente, abbiamo avuto e stiamo avendo risposte da ogni dove, verranno sindaci anche dalla vallata del Pescara, il delegato del Lanci, insomma sarà una bella manifestazione per dire che Pescara è presente ed è presente anche e soprattutto per dire no alla guerra. L'UDC ha lavorato e sta lavorando per la raccolta e aiutare queste famiglie che purtroppo arrivano con i bambini e ne vediamo sempre di più. Quindi l'UDC si è impegnata dall'inizio e cercheremo fino alla fine di non lasciare soli queste persone e quindi no ad alta voce alla guerra. Noi ci aspettiamo tanti cittadini ma la cosa più importante è che nell'animo di questi cittadini continui quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cioè aiutare queste povere persone che scappano da una guerra. Le immagini che vediamo oramai sembra diventato una routine ma lì veramente c'è tanta sofferenza, bambini che non si vedono neanche che piangono ma che quando arrivano qua piangono, quindi bisogna ricordare le lacrime di questi bambini che vederli ci si stringe veramente il cuore. E che ringrazio tutto il popolo italiano che è così vicino al nostro popolo e la solidarietà è grande. Grazie mille.